partita in questo momento, partenza regolare per questa finale junior femmine 500 metri sprint vediamo alla guida del gruppo De Rosa, gruppo compatto De Rosa Gatti De Rosa, Gatti, Franco Lini, queste le prime tre progetti, siamo a ritiro opposto a quello del traguardo finale ecco le pietre che affrontano l'ultima curva, si aprono in questo momento, è sempre De Rosa, seconda ventaglio e in modo ufficioso De Rosa Martina vince questa 500 metri sprint partenza regolare atleti vicinissima al momento, Gagliano ha le condizioni ma passa per le vie esterne, Proverbio Thomas Thomas atleta di casa, in questo momento è la guida di questi sei atleti finalisti abbiamo un soppasto per le vie esterne, due atleti vicinissimi sull'ultimo ritirio d'arrivo e poi il photo finish per la seconda e terza posizioni buona partenza gara si presuppone tattica, visto che la velocità ancora non è alta, la guida del gruppo abbiamo Lissandron sempre Lissandron, Ronzani, queste le prime due posizioni nella terza nella terza balagussa siamo già all'ultima curva, l'ultima curva del rettilineo Lissandron, Ronzani, balagussa si conclude partiti in questo momento i sei atleti finalisti atleta 415 ammunizione atleti che affrontano il rettilineo opposto a quello del traguardo finale ultima curva tutti insieme, si aprono a ventaglio per conquistare la prima posizione e in modo ufficioso dovrebbe essere Manera Filippo San Mauro